E allora una comunità, una città non lo può dimenticare. Erano le 11 del 7 agosto 2017, quando da una spiaggia di Torrette di Fano era arrivata una tragica notizia. Pierluigi Ricci, 56 anni, bagnino di salvamento dell'associazione Mare Dentro, era deceduto per salvare altre tre persone. Il suo cuore infatti non aveva retto allo sforzo in mani che aveva dovuto sostenere nel fronteggiare il mare mosso per cercare di portare in salvo due ragazzini di 13 e 14 anni e il loro papà. Oggi, a un anno di distanza dal dramma che è costato la vita a Pierluigi per tutti i bigio, il sindaco Massimo Seri ha voluto ricordare il gesto di colui che è stato definito da tutti un eroe. Come un anno fa ci fu un momento di grande commozione partecipata di tutta la città. Oggi ricorre un anno e mi è sembrato giusto anche così scrivere qualcosa per ricordarlo a tutta la città. Nel frattempo sta mandando avanti l'iter per un riconoscimento civile della Repubblica e dalle notizie che ho siamo in direttura d'arrivo, quindi anche quello sarà un giusto riconoscimento per un gesto così importante di grande altruismo. E allora questi sono anche quegli esempi che una città, una comunità, le persone non devono dimenticare ma devono sempre valorizzare e sono un esempio straordinario che si possa dare. A ricordarlo oggi sono stati anche i colleghi e l'associazione di categoria Oasi Confartigionato che ha rivolto un appello ai turisti e ai bagnanti affinché vengano rispettate in modo rigoroso sia le ordinanze balneari che il ruolo svolto dai bagnini di salvataggio. Le regole, ha detto il responsabile Andrea Giuliani, sono scritte per essere rispettate e chi non le osserva sappia che mette a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella degli altri.